ma come cominciamo oggi chi c'è chi c'è? beh super 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 ministra beh addirittura Fabiana Dadone Fabiana Dadone Fabiana Dadone Ministra per le politiche giovanili, signora Dadone buongiorno buongiorno a voi come sta? abbastanza bene grazie abbastanza un po' raffreddata si sente e come mai raffreddata? l'aria condizionata ha preso freddo? si ho preso un po' freddo l'aria condizionata caldo poi non ho più il fisico di quando avevo vent'anni questo nessuno ma scusi perché c'è tanta l'aria condizionata al ministero delle politiche giovanili? no l'ho preso in aeroporto dire il vero in aeroporto è certo e lì non si può non può dire sono la ministra potete abbassare l'aria condizionata no per fare una grande operazione simpatia potreste provare a fare una cosa simile sembra una grande idea ogni volta che si collega con noi è sempre distinta cioè senza mai i piedi sul tavolo nel senso l'hai visto? sempre ho imparato le buone maniere no no sempre Beppe Grillo che forse non vuole che questa cosa che si vedano le scarpe sa che c'ha sempre questo chiodo fisso la ministra più rock di tutto il governo Draghi le è piaciuta la canzoncina della nostra orchestrina? molto bella molto bella mi ricordava qualcosa eh sì i tempi andati cosa le ricordava? no cosa le ricorda la ministra? no no i tempi andati appunto vabbè non ci vuole molto essere la ministra più rock del governo Draghi vince facile lei eh temo di sì sì effettivamente anche in termini di età essere più giovane è anche abbastanza facile anche se Di Maio mi batte di due anni eh sì beh però sembra diciamo suo nonno nel senso cioè no nel senso visto per quello stile un po' così no no ma sono io che sembro particolarmente fresca ah è quello infatti brava brava è particolarmente fresca talmente fresca che si è presa il raffreddore tra l'altro insomma ministra è da dono colpita fondata tra l'altro qualche giorno fa ministra ha postato una foto con Damiano dei Maneskin che è insomma un giovane uomo che piace molto alle donne di varie età lui ha torso nudo tra l'altro eh perché lui è evidentemente più giovane di me io invece in quella sera un po' di fresco l'ho preso era una serata organizzata da Repubblica l'uno se non sbaglio l'uno giugno esatto abbiamo chiacchierato con un po' di giovani di prospettive, futuro c'erano un po' di ragazzi poi in conclusione ma e lui la conosceva ministra? no ma ovviamente no proprio lei chi è scusi cosa vuoi? e io ho badato bene a presentarmi ah ce l'è lei non le ha detto io sono la ministra delle politiche giovanili no? se l'ho chiesto una foto e basta però ministra e Maneskin sarebbero veramente un veicolo incredibile per qualsiasi campagna di comunicazione che riguarda i giovani perché sono amatissimi ci ha pensato? è vero sì sì ci ho pensato però in quel momento diciamo che ho solo pensato di chiedere una foto badando bene a dire chi fossi ma scusi e a Draghi gliel'ha mai chiesta una foto ministra? no non gliel'ho mai chiesta effettivamente scusi lei ha chiesto non ho mai visto torso nudo in mezzo all'evento questo in effetti appena dovesse vedere Mario Draghi a petto nudo certo le chiedono selfie sicuramente finite sui giornali sì io anche perché non si è mai presentato così in consiglio dei ministri no il presidente eh no non c'è stata occasione non è il tipo oggettivamente non credo non me lo immagino ma da pantaloni leopardati non credo lei dice di no torso nudo e le pantaloni leopardati non lo so magari è così ma le piacciono i Maneskin sì devo dire che il pezzo con cui hanno vinto gli Eurovision è bello a me piace sì diciamo per il suo genere ricordiamo che a lei piace sì esatto sono un po' un po' lenti diciamo un po' così però sono soft però sono bravi bisogna ammetterlo poi hanno avuto il pregio di far cambiare anche un po' immaginario alla cultura musicale italiana verso l'estero quindi hanno portato un'immagine fresca nuova anche loro freschi siamo freschi siamo freschi come i Maneskin noi siamo freschi siamo freschi siamo freschi ma anche con questo governo siamo freschi senta Ministra Dandone uno non si può girare un attimo che lei combina sempre un casino nel senso ieri beh insomma sì Ministra ieri ha fatto un tweet che insomma che vado a leggere che vado a leggere molto duro molto duro ci sono camerieri da 600 euro al mese con titoli di studio che ex ministri dell'interno o sedicenti leader politici vedono solo nei loro sogni e forse la radice dei problemi italiani è tutta qui allora siccome lei non ha fatto nomi noi siamo andati a cercare questi ex ministri dell'interno partendo da lontano Maroni era laureato in giurisprudenza quindi non era Maroni giusto? no no cancellieri era laureata in scienze politiche quindi non era Minniti laureato in filosofia Alfano laureato in giurisprudenza e quindi non era Alfano chi rimane ministra Dadone? rimane l'unica persona che si è risentita dall'affermazione del tweet cioè Matteo Salvini sì io però ci tengo a dire che il punto non era ovviamente ferire lui ma porre l'attenzione sulle frasi quando le si dicono perché anche lui è sceso in maniera molto netta sui ragazzi continuando e proseguendo questa narrazione dei giovani che sono un po' ciusi che preferiscono come disse qualcuno che preferiscono stare sul divano prendere reddito di cittadinanza piuttosto che andare a lavorare per cifre esigue il punto è che secondo me non è accettabile sentire dare lezioni di questo genere da chi chiaramente ricopre ruoli di un certo tipo perché poi i messaggi politici hanno degli effetti dirompenti sulla vita delle persone accettare il fatto che si possa lavorare sotto la soglia dell'indice di povertà testato dall'Istat perché sono i famosi indicativamente 800 euro che avevamo posto come tetto del reddito di cittadinanza e credere che debba essere socialmente accettabile il fatto di lavorare sotto una cifra di questo genere e considerarla normale anzi se uno non l'accetta è sbagliato il ragazzo ma perché le famiglie investono nella cultura dei ragazzi nel farli studiare in termini anche di speranze per poi dover dare per pacifico il fatto che si debba accettare un lavoro di qualsiasi tipo sotto una certa cifra di stipendio questa è la tematica però perché ha fatto questo legame con i titoli di studio dei ministri perché qualcuno l'ha sottolineato che neanche Di Maio è laureato sì ma il punto era semplicemente rispondere in maniera forte a Salvini esattamente non a Salvini era proprio sottolineare in maniera forte come quando si veicola un messaggio poi si feriscono le persone e anche le speranze delle persone quindi lui si esprime solitamente in maniera abbastanza forte immagino ferisca abbia ferito anche moltissime persone con quel tipo di messaggio purtroppo probabilmente le persone non sono riuscite a ferirle quanto lui ha ferito loro però lui la giudicate dall'alto del proprio ruolo e a me sembra strano che chi sta all'interno della politica ricoprendo un ruolo così possa sparare in maniera così netta e poi offendersi se qualcuno fa notare che invece come giusto previsto da Costituzione e assolutamente pacifico che sia ai più alti livelli si possa arrivare anche senza titoli non parli troppo male del suo alleato di governo insomma perché io non parlo male di nessuno però ci tengo a sottolineare il fatto che è ingiusto questo che ha detto ma quanto dura che sia socialmente accettato lavorare per 600 euro quanto dura questo governo secondo lei ministro Dadone eh no no la sfera magica per dire ma politicamente ma vedendo 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 è difficile ma poco o tanto vedendo perché non capiamo se voleva dire che durava poco l'auspicio che duri tanto però vedendo è chiaro che le progettualità da fare sono tante però è chiaro che le forze politiche sono molto diverse tra di loro e quindi si tende ad essere litigiosi ma hanno punti di vista molto diversi ha paura del papete due no io ho paura ne ho ben poche soprattutto rispetto a eventuali cadute di governo cioè questa estate non cade il governo non rovina l'estate a tutti voi a tutti noi eh questo ce lo dovrebbe dire chi ha fatti cadere prima di governi onestamente non sono la persona giusta a cui chiedo lei non ha paura perché al massimo fate il governo con qualcun altro tanto gli avete fatto il governo con tutti in questa legislatura vi manca solo la Meloni e poi avete fatto perché questa è una repubblica parlamentare non è governativa anche se poi si tende molto spesso a dimenticarlo certo tra l'altro domani domani iniziano gli esami di maturità ministra eh sì insomma i giovani come andò il suo? discretamente bene me lo ricordo come una serie di giornate certo perché c'erano scritte orali quest'anno che mi hanno segnata ecco quanto ha preso? 80 80 su 100? sì è un po' poco ministra scusi però ma sei zitto che hai preso 30 a 6 tu? su 60 però scusi non su 100 però scusi 80 su 100 ministra pensavo di più come mai solo 80? eh chiede a me dovrebbe chiederlo agli insegnanti sì ma lei lo saprà cioè studiava poco meritava di più lei ministra secondo lei meritava di più meritava di più no io non mi permetto di sindacare sul voto che è stato messo da un intero collegio e c'era una un'apposita classe docenti per fare questo tipo di lavoro nel mio liceo le medie erano molto selettive per cui 100 all'epoca erano pochissime insomma erano il massimo 10 su tutto l'istituto ecco e nessuno di quelli è diventato ministro tra l'altro di quelli che hanno preso 100 non credo non direi no solo quelli che hanno preso 80 sta facendo una campagna su tiktok non sono quelli che hanno preso 80 evidentemente no anche meno certo anche quelli che parlavamo all'inizio esatto sta facendo una campagna su tiktok mi vaccino perché aiutata da giovani influencer non sono stata coinvolta tra i giovani influencer questo è gravissimo c'è la tiktok c'è la tiktok no io l'ho lanciata aperta poi era una condivisione di intenti se avete voglia di partecipare ma sono giovani ma c'è che le Cecilia Cantarano Patrizia di quello che le zone non dicono e Diane Clementi altri mondi nel senso e come sta andando sta andando molto bene nel senso che sia gli influencer che i ragazzi hanno preso come stimolante il fatto di essere coinvolti nel raccontare le motivazioni non solo che li vogliono spingere a fare il vaccino ma più che altro è la condivisione di un po' di sensazione di libertà e di riacquisizione di spazi di libertà di manovra di possibilità di uscire quindi vedono un po' da ministra per le politiche giovanili che consiglio dai giovani quest'estate cioè se non sono ancora vaccinati si possono baciare se hanno un amore estivo no chiedo lei ministra è ministra per le politiche giovanili questo vale per tutti la ministra dell'amore mi scusi sono io storicamente la ministra delle limonate delle pomiciate io porto avanti questa campagna no ma lo chiediamo a lei che per i giovani dovremmo avanzare qua un quesito al comitato tecnico scientifico qual è il quesito? se lo dice lei magari l'ascoltano di più qual è il quesito ministra? no è quello che ha avanzato lei cioè se c'è la possibilità effettivamente di avvicinarsi sotto lo spazio del droplet definito nel metro se lei il bacio lo definisce così avvicinarsi sotto lo spazio del droplet no questa era l'ipotesi di quesito quesito sì no no lei con il suo compagno dice ci avviciniamo sotto la soglia del droplet quando vuole dare un bacio è che uno è già andato via se sente una frase del genere scusi è ministra va bene il romanticismo però insomma qui forse siamo lei è una donna romantica ma anche pratica capito? l'altra parte è una metà all'altra è ministra se no sarebbe ministra senta ma di chi è la colpa? è stato giusto vaccinare i giovani negli open day con la strazenica o è stato come dice il suo amico Salvini un esperimento da cavie? anche questa frase mi è sembrata molto forte anche perché nessuno mai ha voluto metterli in pericolo questo mi sembra fuori discussione infatti io non ne faccio una questione di accusa rispetto a chi ha detto che le regioni hanno voluto fare una fuga in avanti le regioni che hanno scaricato la colpa sul CTS nessuno voleva chiaramente ledere e nuocere nessuno l'obiettivo che tutti abbiamo tutti insieme come governo regioni col CTS quindi col supporto del ministero della sanità e di riuscire a raggiungere questa famosa immunità per permettere poi a tutti di vivere con più serenità e riuscire effettivamente a superare quello che è stato un periodo molto difficile e complicato io però non me la sento di dire che qualcuno ha usato i giovani come cavie anche questo è un messaggio molto scorretto io capisco l'esigenza di rispondere sempre immediatamente a ciò che succede però a volte il silenzio è d'oro senta vedo che dietro di lei c'è la bandiera italiana non immagino per la nazionale ma insomma per la repubblica ma sta seguendo la nazionale un po' ministra sì sì l'ho seguita da casa dice così non mi sembra convinta quando dice così no no è che io l'ho seguita ma non sono una grandissima appassionata di calcio per cui qual è il suo sport preferito mi scusi prima piccola parentesi ma io in realtà ne seguo poco posso essere onesta sono più appassionata di musica devo confessarlo ma tra i calciatori della nazionale il più bello chi le sembra almeno questo almeno visto che non è appassionata di calcio no neanche che domanda dovrei averli davanti tutti perché non li conosco mi vergogna dirlo ma non li conoscono neanche tutti ma quindi neanche l'allenatore della nazionale sa chi è l'allenatore della nazionale lo sa si si però si ma l'ho appreso diciamo vedendo la bordo a camo ma perché non seguo mi vergogna dirlo ma se non le piace ministra senta un po' di sole al mare ci è andata no direi di no non ci sono andata infatti sono dello stesso colore della camicetta no è beige lei deve venire in Sardegna ma si ma anche in qualunque altro posto diciamo venga in Sardegna io la invito in Sardegna scusa e tu invitava Milano solitamente tra l'altro mi abbronzo anche facilmente si vede si vede infatti si si sei pronta per la prova costume ti senti tranquilla a tuo agio no come tutte le donne come tutte le donne no che noi vorremmo saltare da giugno a ottobre ho capito ma è la stagione migliore continuo a metterci in costume in ragione potrei avere di costumi che stanno alla perfezione come sulle modelle dei negozi poi uno se le compra con l'aspettativa ma sicuramente questo non mi segnerà per nulla valorizza i dati migliori del mio carattere comunque stia attento perché la vedo già un po' scottata mi sembra solo a parlarne si si grazie Fabiana Dadone Ministra per le politiche giovanile del Movimento 5 Stelle ci saluti Conte ciao Ministra arrivederci arrivederci